E' sempre buona regola, specie nel mezzo dell'allerta da coronavirus, distinguere fatti da commenti. Cominciamo dai primi. In queste ore è attesa la decisione del governo sulla chiusura delle scuole in Italia per arginare l'epidemia, oltre a nuovi stanziamenti per l'economia. In provincia di Avellino non sono stati accertati sinora casi di contagio. Resta l'allerta in seguito alla chiusura di un reparto dell'ospedale Moscati o Torino Laringoiatria. La scoperta di una donna positiva che il 26 febbraio scorso aveva fatto visita al padre ricoverato, ma anche nei giorni precedenti, e che è dovuta a ricorrere alle cure del pronto soccorso per un malore, non fa dormire sonni tranquilli. Le decisioni conseguenti adottate sono state la quarantena per circa 90 persone, tra medici, infermieri e cittadini che si trovavano in ospedale e che hanno avuto contatti più o meno stretti con l'insegnante di Striano. Sui numeri purtroppo c'è ancora incertezza, ebbene farebbero le istituzioni sanitarie a diramarli con ufficialità. Quante persone effettivamente vengono monitorate? Il padre dell'insegnante ancora ricoverato a malattie infettive in isolamento e la madre della donna sono stati sottoposti a tamponi. Ieri sera il risponso, entrambi negativi ai test del Cotugno. Per coloro che si trovano in isolamento domiciliare non ci sarà invece alcun tampone a meno dell'insorgere di sintomi. Il reparto di Otorino-Laringoiatria chiuso riaprirà l'11 marzo quando i 25 dipendenti tra medici e infermieri avranno terminato il periodo di quarantena scattato dal 26 febbraio. Tutti gli altri in isolamento sono cittadini di Avellino e di altri comuni della provincia irpina e non solo che in queste ore vengono contattati dai sanitari. Ripetiamo, per loro non ci saranno testa a meno di sintomi. Sin qui non è stato possibile accertare come sia avvenuto il contagio dell'insegnante di Striano. Ci sta lavorando l'ASL di Salerno che si è attivata quando la signora, dopo l'episodio del Moscati, è tornata in un pronto soccorso a Sarno dove l'è stata diagnosticata una polmonite. Da lì è scattata l'allerta a ritroso. In queste ore c'è grande apprezzione per la scuola. Prefetto, provveditore ASL e Regione tuttavia si attengono alle linee guida nazionali. A suggerire lo stop è stato il comitato tecnico scientifico voluto dal governo. Come dire, la scienza suggerisce, raccomanda, consiglia, alla politica il compito e l'onere della responsabilità di una decisione. E siamo ai commenti, nel mezzo, quello che si registra è il caos.